Dal punto di vista mediatico l'effetto Zeman è stato a dir poco dirompente, il Boemo del resto catalizza, non potrebbe essere diversamente. C'è grande attesa, mista curiosità, sabato prossimo il terzo debutto sulla panchina biancazzurra all'Adriatico, arriva alla Juve Stabia con Pokesci subentrato a Colucci. Appena un pareggio e ben quattro sconfitte, sarà naturalmente 4-3-3, marchio di fabbrica di Zeman, Cuppone, Merola, Scalpitano, Lescano pronto a riprendersi la scena sulla fascia sinistra. Assai verosimile l'impiego di Milani nel ruolo di play, molto probabile il rilancio di Palmiero, ma occhio all'opzione Mora. Curiosità, il tecnico Boemo tornerà materialmente sulla panchina del Pescara a distanza di cinque anni esatti dall'esonero del 2018. Come allora sarà il 4 marzo, il giorno prima, sabato 3 marzo 2018, il Pescara esce sconfitto per 2-0 dal tombolato di Cittadella. Marcatori, nelle immagini, Iori su rigore e Cuame. Oggi alla Fiorentina un capo generato da errori individuali al termine di una delle migliori prestazioni esterne di quella travagliatissima stagione di Serie B. Zeman concede il canonico giorno di riposo e dà appuntamento ai calciatori per la ripresa della preparazione nella giornata di lunedì. Il presidente Sebastiani non è dello stesso avviso, convoca al poggio squadra e staff tecnico per il giorno successivo, appunto domenica 4 marzo. Il Boemo viene avvertito dalla DS Pavone ma parte lo stesso in treno direzione Roma dove vive e risiede con la famiglia. Domenica 4 marzo si vota elezioni politiche, una giornata tristissima segnata dalla tragedia a stori. Al poggio, il giorno dopo, la società prende atto dell'assenza di Zeman che viene destituito dall'incarico. Un esonero ingiusto, non tecnico, la squadra è a tre punti dai play-off con una gara da recuperare, ma figlio di un rapporto nato malissimo, ormai ridotto ai minimi termini, con stilettate e polemiche tra le parti di ogni genere e tipo. A seguire, coerentemente, il DS Pavone rassegna le dimissioni. Lunedì scorso, a distanza di un lustro, Sebastiani e Zeman hanno rotto il ghiaccio e sono tornati a lavorare insieme. Un nuovo inizio dai toni distesi e rilassati, almeno così sembrerebbe. Tre anni fa, da parte della Presidente, un SMS di auguri in occasione del compleanno del Boemo. Un pensiero gentile, apprezzato da Zeman. In realtà, in quel momento, maggio 2020, il club aveva in animo di riaffidarsi al tecnico di Praga per la ripresa del campionato post-pandemia. Idea caldeggiata dall'allora DS Giorgio Repetto e dal match analyst Diego Labricciosa, che storia dello scorso anno avrebbe seguito Zeman a Foggia, ma c'era da convincere Sebastiani. Non se ne fece nulla. Le grottaglie venne poi sostituito da Sottil, che riuscì a centrare la salvezza nel duplice spareggio con la Perugia. Dunque, sabato prossimo, 4 marzo, partirà ufficialmente lo Zemanterra, cinque anni dopo l'esonero.